Ciao, come state? Tutto bene? Ah, sono seduta, va bene, perché oggi mi hanno un po' abbassato, ecco, la prossima volta probabilmente trasmetterò da per terra. No, vabbè, a parte gli scherzi, insomma, vabbè, lo sgavello è rimasto in garage perché nel passato siamo stati in fiera, quindi abbiamo portato un po' di roba in fiera, ma andrò a recuperarlo per martedì prossimo. Intanto, come sempre, grazie perché anche oggi siete stati tantissimi e abbiamo chiacchierato, mi avete dato unk di spunti, anche magari di leggere delle frasi e poi dire da quale libro sono state strappolate, oppure l'oroscopo, è uscito anche fuori l'oroscopo di Bea, insomma, mi avete raccontato della vostra passione per la cucina. Chi mi ha detto, ma perché non fai magari una parte di rock dagli anni 65 al 71, 75 giù di lì, potrebbe essere un'idea anche per martedì prossimo, insomma, raccogliamo tutto quanto e costruiamo insieme quella che sarà la diretta di martedì. Quindi grazie, però oggi abbiamo anche ascoltato dei dischi nuovamente, in particolare perché poi nel nostro appuntamento ascoltiamo un po' di vinili. E allora siamo andati ad ascoltare Waterfront, oggi ho preso degli artisti che forse non sempre vengono ascoltati. Quindi mi metto anche un po' picchettino più in alto. E quindi ci siamo ascoltati Waterfront, con Waterfront e il singolo Cry che era stato quello più venduto in assoluto. Poi, 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 poi siamo andati ad ascoltarci sempre negli anni 80-85, Prefersprout, e in questo caso dall'album Timmy Queen che negli Stati Uniti invece aveva un altro nome per via della censura dell'attore, dell'artista, ci siamo ascoltati Appetite e poi, e poi, e poi, e poi, ci siamo ascoltati Andrew Ridgely, quindi ex-worm, l'album in studio, l'unico album in studio che ha fatto, e da questo album in realtà non ebbe molto successo. E ci fu una canzone, un singolo che doveva essere estratto come terzo singolo, ma fu abbandonato. E quindi ho detto, ma perché non ascoltarlo? È stato abbandonato, è vero, ma un album va ascoltato sempre. completamente, e quindi ci siamo ascoltati anche in Mexico. Per cui, questi sono un po' i singoli e gli album che abbiamo passato quest'oggi, e mi metto così perché non so più come stare. Quindi, va bene, vi ritrovo martedì prossimo, come sempre, qui, e se avete voglia fate un salto anche sul canale Patreon, Simona Non Solo Radio. È tutto, ciao, un abbraccio, buona settimana e buon martedì!